Ragazzi mi raccomando scrivete qui sotto in un commento il pronostico di Napoli Benevento Quanto finisce la partita? 3-1 per Napoli Più il marcatore Primo marcatore? Insigno Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sul canale di Star Casino Sport Qui c'ha le boom in compagnia mia Mr. Franco Siamo un po' delusi Eh che ci vuoi fare? Siamo un po' delusi dalla sfida di ieri contro il Granada Purtroppo siamo usciti ma niente Ora testa al campionato Si riparte domenica Adesso ci resta solo il campionato Si 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 ci resta solo il campionato Si riparte domenica alle 18 contro il Benevento Ho saputo pure la partita di recupero contro la Juve Contro la Juve il 17 marzo No Probabilmente alle 18.45 si giocherà quindi si recupererà finalmente questa partita andata Quindi il mese di marzo pure ci aspetta un bel mese per il Napoli Perché dobbiamo affrontare la Roma, il Milan, la Juve E' un bel mese E' un bel mese di campionato Ma se rientrano tutti i Napoli non è da meno Assolutamente Io quello aspetto Ieri un po' la sfortuna, un po' di tutto la traversa No la traversa, la parata che è fatta sulla posizione di Insigne Colpi di testa di Gula Siamo stati anche sfortunati Siamo stati più sfortunati Vabbè 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 Usciti dalla Coppa Italia Usciti dall'Europa League Pensiamo al campionato Il testa al campionato L'obiettivo ovviamente è il quarto posto Questi tre punti sono fondamentali Papà questa è una sfida secondo me che se vinciamo veramente acquistiamo di nuovo fiducia Ci vuole coraggio Perché poi cominciano a rientrare altri giocatori Altri giocatori E' rientrato Mertens Aspettiamo Tem, Usai, aspettiamo Simen Aspettiamo Manolas, aspettiamo il Ciuqui I giocatori li abbiamo Però con i giocatori che abbiamo iniziamo Già ieri si è visto un altro gioco Si è visto un altro gioco Però ci mancava la punta Sì Stiamo avendo una punta Minimo 4 Purtroppo Mertens non stava in conto Vabbè non ciò non mi vogliava con Mertens Magari Però con Benevento Se può entrare Si è sicuro che entra Mette minuti nelle gambe Dalla panchina Quindi speriamo bene Secondo me la sensazione Papala sarà una partita Difficile Perché comunque il Benevento E' una squadra Gioca bene Difensiva Gioca bene Gioca bene E' un ottimo allenatore E' un ottimo allenatore Sono d'accordo E attenti all'Apadulo L'Apadulo contro Napoli Vabbè ma non è solo L'Apadulo Quando tutti quelli che giocano contro Napoli Ormai Hanno capito il debole del Napoli Su le fasce Si su le fasce Però ieri vi dico la verità Abbiamo visto un buon gulam Ottimo gulam Ottimo gulam Secondo noi gioca titolare Sì Abbiamo messo pure nella formazione Secondo me si entrava prima Vabbè comunque Voglio Amma va troppo Veloce 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 3-1 Insignia Ci ne ammaga E i 3 punti ci serve Ci serve coraggio E non è detto che la partita contro la Juve L'abbiamo persa già State calmi Fiduciosi Dobbiamo essere fiduciosi Fiducia anche al mister E il coraggio Secondo me deve partire proprio da lui Se c'è coraggio appunto nell'allenatore In gattuso Ieri non posso dire niente Anche nei giocatori Ragazzi le occasioni abbiamo avuto Abbiamo giocato bene E purtroppo il 4-1 Un'occasione è butta Il grado Difensivamente abbiamo sbagliato Ma non fa niente Capitolo chiuso Pensiamo al campionato Papà Contro il Benevento Noi non abbiamo fatto tutti sti precedenti E io ricordo alcune sfide Ricordo lì Vincemmo tipo 6-0 Con il Napoli di Sarri Mertens fece il gol di pallonetto Abbiamo giocato 3 partite 3 vittorie L'ultima volta Non l'ultima volta Io stavo all'ospedale Se ti ricordi Giocò Benevento-Napoli Napoli vinse 2-0 3-0 Abbiamo sempre vinto Abbiamo sempre vinto Contro il Benevento Quest'anno però Ci sta sbalordendo Perché comunque Parigi con la Roma Parigi-Caio Vincere a Cagliari È una buona squadra L'Operi ha fatto una bella partita Mi ha In 10 Sono compatte Una bella squadra Compatta È costruita bene Sa ad avere il vero Napoli Sa ad avere il vero Napoli Veramente si vede il vero Napoli E' quello l'obiettivo Abbiamo finito Non abbiamo scusso Coppitalia-Mashu Europa lì che siamo usciti Pensiamo al camionato Papà Tu ti ricordi la sfida Dell'andata Quando segnarono i due fratelli I due fratelli In singa in singa 7-1 gol Spettacolare Stava bene Stava bene Perché noi perdavamo 1-0 1-0 E l'abbiamo rimontata 2-1 Lì 2-1 E segnò Petagna Entrò dalla panchina E segnò Spero di rivedere quel Napoli Ma io penso di sì Non abbiamo quei giocatori Io penso di sì Allora E' fondamentale questa partita Perché se vinciamo La settimana prossima Già incominciano Probabile di rientrare Tiene una settimana di riposo pure Eh Attaccante la Petagna puoi rientrare Certo Proprio Petagna è importante È importante Mi piace Anzi voglio fare gli auguri A Osimene Di presto a qualizzazione Di presto a qualizzazione Assolutamente Insigne, Politano ed Elmas Ma in Napoli Secondo me la partita La può sbloccare Nel primo tempo subito Sì Con una giocata di Insigne Una giocata anche di Politano Mi aspetto tanto anche Da Fabian Che lo sto vedendo bene Ieri mi è piaciuto Fabian Mi è piaciuto Fabian Senza riso Vero Senza riso Quello deve essere Gioca un po' più amante Dal centro d'anno Sì 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 E quello deve fare Poglio come dice Ballardità Quando sta in forma Vramente Piotre 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 Secondo me segni pure Romenico Mentre papà Il Benevento Sta a 25 punti Io spero che si salva il Benevento Sì perché la squadra campana Ci sta simpatica Mi sta simpatica Però Romenico Benevento Salta a casa Non ce la faccio più A dicere ci maniamo Ma non stanno a cercare Napoli Ti voglio bene Ti prego Tu dimmi spagia Non ci prego Immagino una maglietta Immagino fatta la doccia Immagino di mettere una bianca Però il Domenico Ma la metto Domenico la metto Ci maniamo Sempre Comunque il Benevento Ha fatto 6 vittorie 7 parigi E 10 sconfitte Ha subito parecchi gol Di tipo una quarantina Ne ha fatti 25 Quindi diciamo che L'attacco del Benevento Non è proprio Uno degli attacchi migliori Sì 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 Ma dobbiamo stare attenti Comunque alla velocità di Caprano C'è una bella difesa Comunque Alla padula Però non hanno click Che è stato Squalificato Quindi secondo me è importante Per noi Perché click comunque È un difensore di esperienza Ma quando ti chiamo Benevento il Domenico Caccia scienza Sì 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 Lo so lo so lo so Farà una grande partita Ce l'aspettiamo Andiamo a vedere le formazioni Andiamo a vedere le formazioni Del Napoli Questa è la formazione Che abbiamo fatto noi Del Napoli Però probabilmente Che al posto di Elmas Si inserisca Mertens Quindi andiamo a vedere subito Mario e lui L'abbiamo messo un attimo In panchino Toglio bene Mario Vabbè il Napoli Secondo te mister Gioca con il 4-3-3 Sì Meret Perché la difesa a 4 Il Napoli gioca bene Gioca bene con la difesa a 4 Con i due sulle fasce Hanno funzionato Bravo Fatto bene 4-3-3 Quindi con Meret Di Lorenzo Rachmani Coulibaly Goulam Secondo noi parte titolare Sì parte titolare Centro lomba a 3 Con Bagaglio Cozzi Rischi Fabian Ruiz Elmas Insigne Politano L'attacco 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 Ma punto Ma ci dobbiamo arrangiare Con la velocità di Politano La velocità di Insigne Magari possiamo Sorprendere la difesa del Benevento Posso dire un attimo Tu già i giocatori che hai nominato Un Napoli Genusquadron C'è una cosa C'è una cosa Erciuchi Manolas Manolas Demme Demme Ospina E Petagna Cioè Un Napoli Genusquadron Il Benevento Papà gioca con un 4-3-2-1 Ah 4-3-2-1 Allora Il Benevento gioca con un portiere molto forte Di realità Montipò De Paoli Caldirò La Barba Fulon Etemai Schiattarella Viola Ionita Caprari Lapadula Attenzione l'ho detto già prima Caprari Schiattarella Bello centrocampista di Napoli Veramente un bel centrocampista di esperienza Attenzione a Lapadula Caprari Questi due Secondo me Perché Caprari comunque ha molta velocità E veloce E il Benevento è una bella squadra Noi dobbiamo stare attenti Ma con coraggio Secondo me La mia seconda squadra Dico la verità La mia seconda squadra Sono sempre detto Pure quando abbiamo fatto La labia delle classifiche Ho detto che il Benevento si salvava E come seconda squadra A me mi piace il Benevento E si sta dimostrando Si sta dimostrando Però voglio Benevento Domenica Benevento si mangia bene Sì sta bursata Ma ti devo andare a casa Non voglio muistare là Voglio bene Ma Vaglio più sotto Detto questo caro papà Il video finisce qua Ragazzi scrivete qui sotto In un commento Il risultato esatto di Napoli Benevento Ci conta ragazzi Vado a vedere Mi raccomando Commentate tutti E mi metto il cuoricino Detto questo Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale di Star Casino Sport Da Shale Da Mr. Franco E tutto Sempre Forza Napoli Ci vediamo in un prossimo Prepartita E niente Buona partita E buon Napoli Benevento